ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video allora quest'oggi voglio parlarvi della splendida esperienza che ho fatto con l'evento pit talk cup al quale sono stato gentilmente invitato da francesco svelto e ringrazio anche umberto noto che ha diciamo suggerito il mio nome per appunto per poter partecipare a questo evento allora che cos'è la pit talk cup è un evento organizzato da pit talk fanno podcast da anni parlo di formula 1 sono super specializzati nel campo della formula 1 e hanno un podcast eccezionale su twitch che vi invito ad andare a seguire e in più c'è anche in connubio f1 sport.it proprio dedicato alla parte di formula 1 e non solo insieme agli rnm flat out e sport un team di appunto sim racing di altissimo livello francesco svelto si è occupato dell'organizzazione non solo a tutto il suo staff i suoi amici per la questa terza edizione che ha come scopo di creare un connubio tra il mondo della simulazione sim racing e il mondo degli addetti ai lavori del motosport e non solo stiamo parlando di piloti reali giornalisti e oltre a questo anche coinvolgere il mondo diciamo dei content creator quindi dei degli youtubers vi faccio qualche esempio di personaggi presenti lunedì in live abbiamo avuto il presidente dell'aci e sport cristiano martelli pista c'era alberto sabatini famosissima penna di autosprint auto e di del corriere c'erano anche presenti due piloti endurance gt quindi leonardo beccagli e giacomo alto e ragazzi piloti reali e anche altri team e sport presenti di altissimo livello ragazzi rispetto per questi team perché vanno veramente fortissimi quindi oltre alla team rnm flat out c'erano presenti gli spqr e anche il team di romagnoli sicuramente dimenticherò qualcuno non me ne vogliono le persone che non ho nominato però non ce l'ho tutti in testa quindi c'era un parterre di personaggi veramente molto interessanti e in più c'eravamo noi youtubers youtubers youtuberino come ad esempio il famosissimo alberto nasca poi c'era alessandro k max racing ragazzi mirko desantis e umberto noto al quale a noi ci hanno riservato un discord proprio per gli ospiti ed è stato molto bello poter condividere queste due rette e mezzo cui abbiamo potuto ridere scherzare veramente girare in pista con lo spirito goliardico di divertimento che proprio la pittal cap nasce proprio con questo intento è stato molto figo e poi è stato bello poter scambiare qualche parola anche ad esempio con alberto nasca che che ci ha dato il confronto tra quello che quello che restituisce assetto questa competizione è quello che lui ritrova invece sulle piste reali quindi questo è stato anche una parte molto interessante e dei vari consigli che ci ha dato alessandro che ci hanno aiutati per diciamo migliorare un po le nostre performance ma quella migliore in assoluto è stato sicuramente maz ragazzi mazio è un mito c'ha un'intelligenza comica ragazzi lui può scrivere un libro ogni battuta che fa si ride mi lascio qualche battuta qua qualche ma anche per capire insomma lo spirito che c'era sul disco e poi pure nelle prove libere praticamente eravamo sa io fabris noto tutti nel gruppetto la tipo il quartetto c'è tra fino a che non si va in gara poi dopo dopo di lì ci sono certi segreti che a cui è meglio non rispondere vivere nell'ignoranza no ma se tutti in casello ma ridicolo ma che cazzo fate non avete le super soft in formula 1 che durano un giro aspetto alfonsi che mi viene subito in mente happy days c'è uno yellow flag davanti sì perché uno si è incarciovato ma immagina quello che ha aspettato 20 minuti per partire col giro togli la cera metti la cera ragazzi mi dico che devo pisciare è un problema adesso no ma è una gara sprint tranquillo perché ragazzi il livello era altissimo quindi gli unici che potevano andare a battersi sicuramente sarebbero stati alessandro che infatti è arrivato settimo ottavo e vi assicuro che è tanto perché lui non gira più su assetto corso competizione e alberto nasca che lui non ha mai corso su assetto corso competizione ha preso 30 secondi di penalità perché non si è reso conto delle dei tagli ragazzi è arrivato diciassettesimo c'è uno che non arriva mai e faceva i tempi di quelli veloci quindi tanto di cappello ad alessandro e ad alberto perché veramente vanno fuori e poi c'eravamo io umberto maz e mirko che lottavamo tra di noi più o meno sugli stessi tempi ed è stato bellissimo perché comunque comunicavamo tra di noi dai ti lascio passare vai forse ci davamo è stato veramente molto bello c'è lo spirito che c'era in questo in questo discord degli youtuber e quindi sono davvero molto contento di aver partecipato veramente ringrazio tutto lo staff di pittolk e di rnm flat out perché sono delle bellissime occasioni da condividere con le persone che appunto hanno le tue stesse passioni detto ciò ragazzi ho contattato francesco svegli l'ho invitato alla live di questo venerdì 22 dicembre alle 16 30 ed ha accettato quindi sono contentissimo e lo avremo come ospite non solo avremo francesco ma avremo anche l'uomo dalle auto da bello sullo stomaco ragazzi carlo x carlo abbiate ragazzi c'è un personaggio fantastico che seguo da tantissimo sarà presente anche lui e poi avremo il nostro carissimo amico alessandro k di malati di sim racing presente anche lui venerdì quindi tre ospiti d'eccezione quindi vi do veramente appuntamento ragazzi venerdì 22 alle 16 30 qui sul canale di sim drivers ovviamente ad accompagnarmi i miei soliti carissimi amici mauri 72 maurizio grasso e antonio fiorillo di karma tv quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto pollice in su lasciate un commento iscrivetevi al canale e mi raccomando ci vediamo venerdì 22 alle 16 30 qui su sim drivers per la live del quarto episodio del salotto del sim racing da fabrizio è tutto un abbraccio ciao